Sì, io mi ricordo, mi faccio pagare il frumento e pagare un cittumino l'anno di frumento, un maschio per tenendo il carnese, gli italiani e i capelli, tutti qua, c'erano delle frutte. Mi faccio, si paghia la barba e i capelli e i capelli. Qua cittumino il frumento l'anno. E ora, dovete fare un calcolo quanto il frumento c'è questo? Dottore che faccio, arriva una cosa, una sarma frumento a 14 kg o kg, quanto fa? Ora tu non ci vuoi calcolare la fici. Una sarma quant'è? 220 kg? 224. 224. Beh, quanti centesimi? A 17 a cavallo. Non c'è un punto. Se t'era al 10 centesimi... 17 a 17 fanno... 40? 17 centesimi per cento quando fai? 17 euro. Ah! 17 euro. Questa semana, sapete, 17 centesimi. 15 euro. Un terzo pezzo. Più? Una sarma è 220 kg. Se t'era a 100 kg, mi pare, 17 euro. 34 euro. Più di 20 kg? Ah be', mettiamo... 35-36 euro. 36 euro l'anno. Per i termini, guarda, guarda. Mi ha seguito, guarda. Guarda, due sarme frumentano l'anno e siamo a posto. E quando mi vuoi registrarmi? E quando mi vuoi registrarmi? Questo prezzo che c'è? Ma questo prezzo che fa? Ti manco di salutarla, quando la porta appena ti saluto vuoi utilizzarmi e fa meglio. E se ti porto qualche culo di un'aracqua, come è? Meglio! Un fumarolo a passare? Vedi un inciano. Vedi un cacino fumarolo. Faccio cucuzzi? Faccio cucuzzi. E quanto tempo l'anno mi paghi? Tempo l'anno? Ma devi costruire dopo la cosa che hai. Ma sempre c'è il cacino che io mi costruisco, faccio 4 patate loro in testa. Ci aggiungi un caffizorocchio. Ma quanto mi ha a costare? Faccio cosa? Aggiungici un caffizorocchio. E un caffizorocchio la fonte? Ma ora lo mettiamo a camminare. Ah, che piccolo mangi. Ah, ci vanno un tiso. Va bene, io sto piccolando il caffizorocchio. Non mi intendo pagare le cose. E i figli, i menno, i malini, i cazzani, lo mangio io. Ma il cacino è servito da due barbieri. Guarda là. Ma io ho venuto con tu spiagli. E poco fa mi è arrivato a cantavarbre. Mi scordate il portafoglio. Non c'è problema, non c'è problema. Prima di rassettare il ministro dice è tanto, se no mi scopo a casa e ti faccio metà a pezzo. E poi mi porti. E poi la lavare? Se no pagare proprio la lavare ci sei molto da mattina. Noi figli, io non le farei e vieni a fare. Ma che posso fare? E' per caso il mio giammanco mette pure. Mi piaccia andare a usarmi il frumento, ce la portare. Ma... Ma ti conviene se per usarmi il frumento fare tagliare la tua parte? Beh... Meglio lei che se so. Ma... Caccio con la petta pure se capisci a portare una faccenda in ricotta fai un tomazzino e un tomazzino Tu cos'erai? Lì non c'è a portare, non c'è a portare. Ma che va solo? L'ultimo cosa ci fai di grande, ci porti i grandi. Per due. 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 Tuttavia... Per due. E' il solito non c'è E' il solito... ...o Rep bitcoin... Si senta di portare. Ma poi... Si sento di portare sulla cazzina. Al numero. Maz e… e il mio avvio si va chiudono l'uno non è il taglio di capito e si guarda va chiudono l'altro si guarda l'altro, non c'è un cugume ok c'è un cugume do cugume è uno di mangi va bene, a salute non è buona giornata a casa è grande oi a frente ma non è problema qui a nessun paese il campo di solito è il campo Grazie.